Buonasera Presidente, sono andato a rendergli omaggio, a salutarlo, ma non ho sentito le sue parole, perché ero impegnato in una riunione, sicuramente saranno state parole di saggezza, ma non ho sentito. Sono contento della compattezza del centrodestra. Presidente, ma vi siete sentiti con il sito? Io no, io no, non ho avuto occasione, l'ho sentito in aula. L'ha sentito in aula? Che cosa vi siete detto in aula? A profitto dell'occasione per assicurarvi in tutta sincerità che non mi ha rivolto nessuna parola ingiuriosa. Nei miei confronti no, dopo che me ne sono andato non lo so, sicuramente in ogni caso non ero indirizzata. Come? Io o Berlusconi? Ah, io sì.